Non gliene va bene una al sindaco di Biceglie, Francesco Spina, o meglio, gli va benissimo quando si tratta di gestione del potere, qui non sbaglia un colpo. Lo ha dimostrato nell'intera scorsa consigliatura ed anche in campagna elettorale, complici avversari, con una vocazione naturale alla sconfitta. Lo ha ridimostrato in apertura di questa consigliatura con un'operazione, quella della presidenza del Consiglio affidata addirittura al suo rivale storico, Franco Napoletano, che di fatto gli ha fruttato un immediato allargamento della maggioranza. Ma per il resto in questo momento gli gira piuttosto male. Prima la schiuma nel mare, con conseguenti polemiche con tutto il mondo, Goletta Verde, Legambiente e quei cattivoni dei giornalisti della Gazzetta che non si sa per quale oscuro motivo dovrebbero avercela con lui e con la sua città. Poi le accuse per il degrado della zona ripalta, a seguire l'uso improprio delle strutture della spiaggia riservata ai disabili, pomposamente inaugurata da pochi giorni. Non è un granché, la rampa per l'accesso al mare è diventato un trampolino per imbecilli, ma è comunque qualcosa rispetto al nulla e a tal proposito le critiche dell'imbelle consigliere del Torrione Storelli sanno tanto di benaltrismo a buon mercato. Ma il clou della sfiga, il buon sindaco, lo ha raggiunto con il concerto della cantante Malika Ayan, annunciato come l'evento di punta dell'estate bicegliese. Peccato che l'artista non ne sapesse nulla come lei stessa ha riferito attraverso Twitter. Del resto, com'è possibile che una cantante che si esibisce gratis a Trani possa, dopo pochi giorni, ripetersi a Biceglie, cioè a 5 km di distanza a pagamento. La cosa sorprendente è che Spina, che piange continuamente miseria, dopo aver ignorato impresari seri del territorio che proponevano artisti di ben altro spessore, aveva investito l'esorbitante cifra di 20.000 euro su una cantante che non costa moltissimo di più, tanto valeva coprire interamente il costo e farle esibire gratis. Ma questi sono i misteri delle logiche oscure degli affidamenti diretti. Già in altre occasioni abbiamo ricordato come in fatto di musica Spina sia rimasta ad Aurelio Fierro e quando proprio vuole darsi una botta di vita può spingersi Massimo a Julio Iglesias. Non sappiamo chi sia il suo consigliere musicale, ma visti i risultati gli consigliamo di cambiarlo rapidamente. A Biceglie si resta ora il concerto della concittadina Erika Mu, quella che vuole invecchiare serenamente. Noi che stiamo invecchiando acidamente naturalmente non ci saremo, benché il concerto sia gratuito. Non sappiamo se perché omaggio dell'amministrazione oppure perché presumibilmente un biglietto non sarebbe disposto a pagarlo nessuno.